Sì, però dietro anche voi partecipate al gioco. Ah, ma ci sono i Mikado? Certo. No, vabbè, ma anche io voglio un Mikado. So, vai, voglio un Mikado lo stesso. Doritos coi Mikado. Eh, ormai un Mikado lo prendo. Regia, te lo mandiamo un Mikado. Vi ricordo che manca solo un'ora alla fine di questa premiazione e ora festeggeranno il cinquantesimo anniversario del padrino. Allora. E parte la pubblicità. Avete aperto la... Metti un po' di patatine lì, bravo. Sì, vabbè, ma di più. Ok, poi io torno lì. Non capisco se è pubblicità. Andiamo da mangiare al criceto mentre sgobba. No, perché il buon Fabio è dietro che lavora. Nessuno lo vede, ma lui bisogna di energia. Ti vogliamo bene, Fabio. Ma sono tu agli occhiali? Sì, c'è una pausa. Penso che sia il momento giusto per fare il gioco. Allora, attenzione. Attenzione anche pubblico dietro. Pubblico in sala. Dovete fareci fare anche voi. Ma vogliono fare il gioco, quindi facciamo il gioco. Devo fare un gioco? No, ce l'ho io. No, adesso ce l'ho io già. Allora, siete pronti? Allora, voi dovete sapere che io ho uno zio. Uno zio che sta fuor lì. Si chiama Oscar. Si chiama Oscar. No, uno zio che sta, che non sta fuor lì, sta a Los Angeles. E praticamente lui è un po' nel mondo di Hollywood. Ah, raccomandato. Sono un raccomandato. E quindi io so tutti in retroscena di che succedono, che ci sono nei film e nella produzione dei film. Quindi vai te a... Vedi perché faccio il cineforum? Per questo. Che ce l'ho nella dinastia. Nella dinastia. Io sto spendendo la minchiata. Dietro ogni puntata c'è questo tuo zio che veglia su di noi. Esatto. È sempre un universo. Ti invia le informazioni. Allora, dovete sapere che quando si fa un film, non è che si sceglie subito il titolo. Cioè, ci sono varie opzioni. Quindi adesso io, mio zio, mi ha dato... Ah, come si chiama il nome? Oscar. Ah, veramente? Si chiama Oscar. Non lo sentivo, però non lo so perché dici su te. Si chiama Oscar. Quindi, adesso io vi dirò il film col titolo che voi conoscete. E voi dovete dire... Poi vi dico anche altri titoli che erano, in teoria, papabili. Voi dovete dirmi quali tra questi titoli era papabile rispetto a quello che poi è stato scelto. Ma era papabile nel senso che è stato preso in considerazione. È preso in considerazione, sì. Va bene. Gli altri sono inventati. Quindi nel 2018 Black Panther era tra i nominati. Le alternative erano... Micio Micio. Cosa fai? Vai. Micio Micio, tagliati le unghie. Non le taglio le unghie. L'uomo che ama i grattini. Che cazzo qua è... Non le taglio le unghie. Scusa, in che modo questi erano papabili? Erano papabili. Per Black Panther. Uno di questi era papabili. Puoi ripetere la quarta? Micio Micio, tagliati le unghie. Non le taglio le unghie. L'uomo che ama i grattini. L'uomo che ama i grattini. Non le taglio le unghie. Anche secondo me. Micio Micio, ragazzi. Micio Micio. Mi spiace. Cioè, Cat Cat. Veramente? Secondo te? No, ma... Io stavo per dire Micio Micio. Ok, non sto capendo le regole di questo gioco. Vabbè, 2019. Jojo Rabbit. Si vince qualcosa in questo gioco. Non si vince niente, chiaramente. La gloria si vince. Jojo Rabbit. Avete visto Jojo Rabbit? Si. Fede, questo lo devi vedere. No, Jojo Rabbit lo devi vedere perché è veramente un bel film. Ma aveva un altro titolo che se la giocava con Jojo Rabbit. Ma so di cosa parla. Però tu non sai di cosa parla e quindi sei fuori. Baffetti, il mio amico Adolf, Riportino. Mi pare fosse il mio amico Adolf, l'ho sentito. Secondo me Riportino. Riportino, è giusto. E' vero? Eh sì, l'ha detto su tutti i giornali. 2018 e Star is Born. Regia, tu puoi partecipare. Questo l'ho visto. E Star is Born, ok. Questo l'ho visto. L'alternativa era, canta che ti passa. Sì. L'alcol fa male. Eh beh, questo è... Una su mille ce la fa. Eh dai. L'ultima. Una su mille ce la fa. Ma male è brutta, eh, conoscendo la fine del film. Io dico canta che ti passa. Canta che ti passa, anche io. È già il corretto, bravi. Ma che titoli sono? Ma scusa. 2019, Joker. Ok. Sì. Allora, l'alternativa era Trucco e parrucco. Il pagliaccio stralunato. Sorridi che la mamma ti fa gli gnocchi. Il make-up non è solo per donne. Quella degli gnocchi. Non può essere sismo.